Buon pomeriggio, grazie alla scuola Holden, grazie allo spazio Lavazza, grazie a Federica Manzon e grazie a voi. Avevo intenzione, quando ho pensato all'esattezza dell'immaginazione, di fare un percorso che, passando da Andrew Hagen, arrivasse a Flerieghi. Mi interessava, perché ci sto ragionando sopra, il rapporto tra biografia dell'autore e saggistica. Perché? Perché sembra che lo studio vada sempre a detrimento dell'immaginazione. Sembra che chi ha tanto studiato non sia in grado di inventare, rinvenire quindi, una storia. Ovviamente i controesempi, come si dice in matematica, sono tanti. Probabilmente se Tolkien non fosse stato uno studioso di linguistica e cultura medievale, noi non avremmo oggi la terra di mezzo, che è in effetti un libro fantasy. Quindi quello che dovrebbe essere appunto il pensiero, il massimo dell'immaginazione. Se Asimov non fosse stato chimico, probabilmente noi non avremmo la trilogia della fondazione. Quindi quello che mi è sempre interessato, forse anche qui in maniera assolutamente personale, perché io di formazione sono matematico, è sostenere e in qualche modo ritrovare che lo studio sia un potenziamento dell'immaginazione. Adesso perché non ci sembra tale? Perché siamo ossessionati dall'idea del romanzo ottocentesco. Nel Settecento il romanzo, penso a Boswell, penso a vita del Dottor Johnson, penso a tantissimi altri esempi, in realtà partiva e considerava forme che non fossero diciamo solo quello che si chiama storie inventate. Il Novecento ha distrutto ancora la forma del romanzo dell'Ottocento, però noi quando pensiamo al romanzo, pensiamo a guerra e pace, pensiamo a romanzi che in qualche modo hanno un'unità di spazio, tempo, luogo e lingua per aggiungere categorie a quelle classiche aristoteliche. Quindi niente, il romanzo di pura invenzione, che poi neanche guerra e pace è un romanzo di pura invenzione, c'è Napoletone dentro, quindi voglio dire, c'è un'idea un pochino secondo me limitata del romanzo. Quindi cosa ho fatto? Invece di farvi questo percorso che prendeva alcuni scrittori contemporanei, penso appunto a Andrew Hagan, penso ad Alexander Master che aggiorna la forma della biografia in questo libro che si chiama The Genius in the Basement, penso diciamo al libro che sta per uscire di Serena Dandini su Lee Miller che fa addirittura un'autobiografia di sé passando per la vita di un altro che è quello che ha fatto, diciamo, Walter City, in Bruciare Tutto, ho pensato di scrivervi una cosa per farvi vedere, per mostrarvi, spero di esserci riuscita, come funziona quello che Virginia Woolf chiamava il lettore comune, cioè come funziona qualcuno che si mette davanti a un testo e lo legge come sempre si legge con tutto se stesso o con tutta se stessa. Dunque il romanzo sul quale mi sono concentrata e capirete perché, spero che lo abbiate letto e se non lo avete letto, che fortuna perché dovete ancora leggerlo, è l'età dell'innocenza di Edith Wharton. Facciamo una rapidissima alzata di mano, chi ha letto l'età dell'innocenza? Vabbè, la prossima volta Porto Topolino. Quante persone hanno visto il film l'età dell'innocenza? Va bene ragazzi, c'è una manica di fortunati tra voi che non hanno letto l'età dell'innocenza. Spero che questa cosa non vi scoraggi. Non succede mai qualcosa in paradiso, le traduzioni degli escerti vengono dall'ultima traduzione italiana fatta da Maria Rosa Bricchi per i tipi di buon piani. La New York dei giorni di Newland Archer era una piramide piccola e scivolosa, dove non si era mai aperto uno spiraglio né ci si era mai spostati di un passo. Alla base c'era il solido zoccolo di coloro che Mrs. Archer chiamava persone semplici, un'onorata ma oscura maggioranza di famiglie rispettabili che, come nel caso degli Spicer o dei Lefferts o dei Jackson, si era innalzata al di sopra del livello d'origine grazie al matrimonio con un membro del clan dominante. La gente, diceva Mrs. Archer, non era più esigente come in passato e con la vecchia Catherine Spicer che regnava a un capo di Fifth Avenue e Julius Beaufort all'altro, non ci si poteva certo aspettare che le tradizioni resistessero a lungo. Come sono queste case? La casa di Catherine Spicer, H. Manson Mingott, è così. La casa era essa stessa un documento storico, anche se naturalmente non venerabile come certe antiche dimore situate in University Place o nel tratto iniziale di Fifth Avenue. La vecchia Mingott, che aveva costruito la sua casa, più tardi aveva mescolato arredi di famiglia e frivoli pezzi secondo impero. L'immensa cascata di carne che, con la mezza età, era discesa su di lei come un fiume di lava su una città devastata, l'aveva trasformata da donnina rotonda e attiva, con piedi e caviglie ben disegnati, in qualcosa di così vasto e angusto da farla assomigliare a un fenomeno naturale. Il fardello della carne impediva da tempo a Mrs Mingott di salire e scendere le scale e lei, con caratteristica indipendenza, aveva collocato i saloni da ricevimento al piano di sopra e si era stabilita, in flagrante violazione di tutti i codici di New York, al piano terra. Così chi sedeva nel suo salotto coglieva, attraverso una porta sempre aperta e una tenda scostata di damasco giallo, l'immagine in attesa della stanza da letto, con un enorme letto basso imbottito come un divano e un tavolo da toilette con frivole balze di pizzo e uno specchio della cornice dorata. La dimora dei Beaufort, per converso, era una delle poche a New York fornita di sala da ballo. In un tempo in cui si cominciava a considerare provinciale, coprire di stuoie il pavimento del salone e spostare la mobilia al piano di sopra, possedere una sala da ballo destinata a quel solo scopo e abbandonata per 364 giorni all'anno all'oscurità delle imposte chiuse, con le sedie dorate impilate in un angolo e i candelieri impacchettati, questa superiorità indiscutibile bastava a compensare qualunque macchia nel passato dei Beaufort. Mrs. Archer, che amava tradurre in assiomi la sua filosofia sociale, aveva detto una volta, affezionarsi a persone comuni? Oh, lo facciamo tutti. Ma i Beaufort erano peggio che comuni, diceva qualcuno. In realtà Mrs. Beaufort apparteneva a una delle famiglie più onorate d'America, il problema era chi fosse Julius Beaufort. La follia, proprio come la saggezza, si valuta in base alle conseguenze e due anni dopo il matrimonio tutti riconoscevano che la casa della giovane Mrs. Beaufort era la più distinta di New York. Nessuno sapeva esattamente come si fosse compiuto il miracolo. Vorrei subito dire che questa rilettura dell'età dell'innocenza di Edith Wharton arriva nella mia vita mentre trascorro, da quasi tre anni, metà della settimana a Venezia. Quindi è stato facile immaginarmi Fifth Avenue come il Canal Grande e pensare che in quei palazzi, con le porte d'acqua, dietro balconi e bifore, stessero in attesa i Mocenigo, i Nani, i Loredan, i Franchetti, proprio come nel romanzo stanno, oltre le corti e assisi sui divani, i Manson Mingott, i Van der Luyden, i Lowell Mingott, i Beaufort e gli Spicer. Che la vita insomma, riguardata nei suoi minuti e minimi meccanismi sociali, accada lungo la strada o il canale e dentro le case. Nelle stanze, negli androni, si parla e si sparla, si discute dei nuovi venuti. Vorrei anche aggiungere che se nei romanzi che ho letto e riletto tutta la vita, amandoli e talvolta capendoli, c'era al massimo una casa. Penso, per citarne alcuni, a Dracula di Stoker, anche se la prima casa del conte è un castello e la seconda una chiesa sconsacrata. Penso a cime tempestose, dove in realtà tutto si svolge tra due case, Wootering Heights e Trashcross Grange. A Genaire, dove però la casa, per la prima moglie di Rochester, è una prigione. Agita al faro, anche se è una casa stagionale. Ha tra un atto e l'altro, anche se Point's Hall è stata costruita dal lato sbagliato dell'avvallamento. In quei romanzi c'era al massimo una casa, mentre qui c'è un'intera strada di case, ciascuna delle quali fa parte del terreno di caccia di una tribù o di un'altra. Tribù che non scambiano cose, sì anche cose, eredità e regali, ma scambiano costumi e abitudini. Mr. Welland era un uomo mite e silenzioso che non aveva nessuna opinione ma molte abitudini. L'età dell'innocenza è infatti un romanzo che procede con piglio antropologico attraverso le immobili classi sociali della New York, della Gilded Age, i pochi decenni che dagli anni settanta dell'ottocento arrivano più o meno fino allo scoccare del secolo e di poco lo scavallano. Tutte queste case, rispetto ai romanzi di qui sopra, che sono romanzi europei, mi avevano fatto intendere da ragazzina che l'America davvero fosse il paese che tutti dicevano. Enorme, c'erano molte case, moltissime. Di casa in casa, scrive per esempio Virginia Woolf in Tra un atto e l'altro, la traduzione è mia, nottetempo 2015. Points all, sentite l'ironia di Virginia Woolf, sentite la comicità di Virginia Woolf, bisogna riappropriarsi del comico in Virginia Woolf, che è stata anche una grande scrittrice donna, mobilitata e presentata in Italia con istanze femministe, ma vi prego leggetevi Orlando, leggetevi Flash, leggetevi tra un atto e l'altro e cogliete, godete di questo comico incredibile. Certe volte però mia sorella mi dice che rido da sola, ma non importa. Points all, nella prima luce del mattino d'estate, appariva una casa di media grandezza. Nelle guide turistiche non era menzionata tra le case degne di nota, era troppo modesta. Tuttavia quella casa biancastra col tetto grigio e un'ala costruita ad angolo retto che si trovava in un punto del prato malauguratamente basso e con una fila di alberi sul pendio adiacente, tanto che gli sbuffi di fumo si arricciavano sui nidi delle cornacchie, era una casa in cui si stava bene. Passandoci accanto le persone dicevano mi chiedo se la metteranno mai in vendita e poi rivolti all'autista, chi ci vive? L'autista non lo sapeva. Gli Oliver che avevano acquistato la proprietà poco più di un secolo prima non avevano legami con i Waring, gli Elvey e i Mannering o i Barnett. Vecchie famiglie imparentate tra loro i cui morti si intrecciavano come le radici dell'Edera sotto al muro del Camposanto. Gli Oliver erano lì da poco più di 120 anni. 120 anni, solo 120 anni e il tempo nella grande America piena di case. Come scorre? Così, in realtà vivevano tutti in una specie di mondo di geroglifici dove la verità non veniva mai detta, né messa in pratica e nemmeno pensata, ma solo rappresentata da un sistema di segni arbitrari. Vi sembra una descrizione perfetta delle fake news? In realtà vivevano tutti in una specie di mondo di geroglifici dove la verità non veniva mai detta, né messa in pratica e nemmeno pensata, ma solo rappresentata da un sistema di segni arbitrari. Il tempo nella grande America piena di case non scorre, geroglifici, immutabili segni convenzionali in America. Se avessi scritto questo intervento senza rileggere l'età dell'innocenza ne avrei parlato come una grande storia d'amore tra un giovane uomo pieno di coraggio e una giovane donna piena di bellezza che purtroppo non riescono a fuggire alle gabbie dorate che la società nella quale sono cresciuti gli ha chiusi intorno. Essendo peraltro essi stessi sbarre di quelle gabbie, gabbie di serate all'opera, balli, sedie di kins, carrozze, gare con l'arco, passeggiate in giardino, cappelli e ombrellini. Avrei continuato ad aggiungere particolari, come nelle volte di una danza, trasformando Newland Archer in un cavaliere senza macchia, coi guanti di capretto candido e la contessa Olenska in una donna pura ma sfortunata, di più una donna irresistibile. Di May Welland non avrei parlato. L'eterna fidanzata. Davvero, vi avrei chiesto, ma in questo romanzo c'è May Welland? Ci sono Newland ed Ellen e intorno figure che più appaiono, più se ne parla, più sbiadiscono. May Welland, avrei proseguito argomentando, è davvero May Welland un personaggio narrativamente più determinante di Katrin Mingott o di Lawrence Leffert. No, avrei detto, no e poi no, non lo è, sbattendo un pugno su un tavolo se lo avessi avuto a portata di mano. Questo perché, come molti, sono stata innamorata di Ellen Olenska. Non è un innamoramento originale, mi rendo conto, tutti si innamorano di Ellen Olenska, nonostante tutti siano convinti che la sua bellezza sia sfiorita. Ecco, Ellen Olenska è una di quelle figure che ti fanno intendere, sulle pagine, come nelle strade, come nella vita, quanto la bellezza non sia un concetto puntuale, sia un intervallo, non un istante, sia una durata. Perché se tutti sono convinti che la bellezza di Ellen Olenska si sia consunta, probabilmente a causa del dissipato conte polacco che Ellen ha sposato, tutti, perché, se è così, tutti guardano Ellen Olenska? Ecco, la bellezza funziona come la gravità, più probabilmente avvicina i corpi. Un corpo bello avvicina più di un corpo meno avvenente. È la gravità della bellezza. Ellen Olenska, nell'universo di New York, pesa. Il romanzo è anche questo. Forse, se hai 13 anni, il romanzo è solo questo. D'altronde c'è scritto, Ellen Olenska era diversa da qualunque altra donna. Lui era diverso dagli altri uomini, dunque la loro situazione non assomigliava a nessun'altra e non dovevano rispondere ad alcun tribunale se non a quello del loro stesso giudizio. Se non fosse che questa non è la realtà, è forse questa una verità sentimentale. È sicuramente una verità sentimentale. Non rispondere ad alcun tribunale se non a quello del proprio giudizio. Lo facciamo tutti. Se è una verità sentimentale, l'unico giudice e l'unico tribunale siamo noi. La cosa divertente dei romanzi, la cosa divertente di certe verità matematiche, è che somigliano alle verità sentimentali. Sono tutte assolute e sono tutte transeunti. Sono provvisorie. Non so se vi è capitato, perché vedo persone molto giovani tra voi, di dire ti amo a qualcuno o di ricevere un ti amo e di crederci. Di crederci assolutamente. E poi quel ti amo si è trasformato in un ti voglio bene o in un non mi piace abbastanza. Abbiamo mentito? Abbiamo ricevuto menzogne? No, sono cambiate le condizioni al contorno. E quando cambiano le condizioni al contorno in un rapporto tra due persone? Quando dall'ideale di essere innamorato di una persona si passa alla vita con quella persona. Ecco, la presenza dell'altro cambia la nostra verità sentimentale. Quindi dove sono Ellen Oleska e Newland Archer? Sulla soglia di quel cominciare a tentare di portare nel mondo quel loro amore che non ha tribunale e non ha giudizio. Come molte verità sentimentali, anche quella di Newland ed Ellen, consiste in un'eccezione. E quando siamo eccezionali siamo ingiudicabili. Solo 120 anni, solo una verità sentimentale. La realtà o quella che oggi mi appare tale è che sia Oleska che Archer sono due conformisti. Giocano i rivoluzionari, ma non lo sono. Né Oleska né Archer riescono a rinunciare alla forma. Ellen dichiara di non farlo perché fuori dalla forma ci sono luoghi impervi, anche se divertenti. Archer dichiara di non farlo perché Ellen glielo ha chiesto. Sì, io sono quello che tu hai fatto di me, ben più di te. Io sono l'uomo che ha sposato una donna perché un'altra gli ha detto di farlo. Newland Archer sposa May Welland perché Ellen Oleska gli dice che lo ama, gli dice di sposare May Welland e lui lo fa. Ellen e Newland sono l'uno la forma dell'altra. Olenska dichiara la costruzione, il limite, il vincolo. Nel mondo fisico esiste la gravità e i vincoli che determinano i gradi di libertà di un corpo. Esempio, se state sul pavimento potete cadere sotto terra a meno che la terra non si apra vingoi? No, siete vincolati a stare sul pavimento. Olenska dichiara la costruzione, il limite, il vincolo. Lo dichiara e lo accetta. Olenska crede ad Archer e Archer vuole fare del bene. E fare del bene significa agire secondo le regole della tribù, della comunità. E agire secondo le regole della comunità significa imporre agli altri un'idea di salvezza, anche se gli altri non sono d'accordo. Olenska crede ad Archer perché nessuno mi ha dato delle ragioni per fare quello che sembrava così difficile e inutile. Le brave persone non mi avevano convinto, mi sembrava che non avessero mai provato una tentazione. Ma tu sapevi, tu capivi, tu avevi provato a sentire il mondo fuori che ti trascina con mani dorate. E tu detestavi le cose che mi stavi chiedendo di fare. Detestavi la felicità scaturita dal tradimento e dalla crudeltà e dall'indifferenza. Questo non lo avevo mai visto prima ed è meglio di tutto quello che avevo visto fin qui. Come scriverà qualche anno dopo Margherita Ursenar in Alex Isso e il trattato della lotta vana, l'innocenza fu il mio primo peccato. A Elen Olenska, dopo le dissoluzioni evocate nella vecchia Europa, l'unica forte sensazione che manca è l'innocenza, l'astenzione. Che cos'è la purezza per chi puro non è? Probabilmente la stessa cosa, una questione che riguarda l'orgoglio. La purezza è un peccato d'orgoglio che riguarda un'estetica comportamentale. Azzardo, non so, ipotizzo, non ho l'estetica della purezza, ma forse perché non sono mai stata aristocratica e comunque non lo sono nata. Elen crede a Newland perché lui ha peccato e si è ravveduto. Questo dice, e dunque questo deve aver pensato, ma Olenska sbaglia un rapporto causale. Lei gli crede perché lo ama e non essendo all'altezza del proprio amore non è quasi facile o non è possibile essere all'altezza dei propri sentimenti o delle proprie intenzioni. Chi di noi può dire tranquillamente di essere all'altezza delle proprie intenzioni? Voglio scrivere, ma poi posso stare seduto sulla sedia fino a quando quella frase non mi viene. Voglio stare con tizio o caio, ma sono in grado di sopportare i difetti o semplicemente i limiti o gli eccessi che tizio o caio mi porteranno nelle mie stanze. Voglio pesare 48 chili, ma sarò in grado di rinunciare ai gin tonic che mi fanno tanta compagnia la sera. Voglio essere un bravo figlio, ma sarò in grado di rispettare anche le insensatezze che mi chiederanno i miei genitori. Voglio essere un bravo genitore, ma sarò in grado di sopportare le differenze dalle aspettative tra la vita di mio figlio e quello che io ho pensato per lui o per lei. Ecco, non è facile essere all'altezza delle proprie intenzioni o dei propri sentimenti. Ecco, e Olenska, per questa difficoltà che ci riguarda tutti, sbaglia un rapporto causale. Non essendo all'altezza del proprio amore, lo chiama, sintetizzo brutalmente, condivisione nell'aver provato le stesse sensazioni e le stesse tentazioni. Olenska chiama amore l'aver provato le stesse tentazioni. È una definizione abbastanza buona, anche questa vasta. Chiamo amore quello che in qualche modo somiglia alle mie mancanze. Non voglio scomodare la canna di cui Federica Manzoni è tanto appassionata, però la verità è questa. Olenska fa questo errore, chiama amore il fatto che hanno tentennato sugli stessi desideri. Olenska pensa ad Archer come l'esempio dell'evoluzione cui lei stessa può aspirare e ignora il presente, sottovaluta il presente, dove entrambi si stringono le mani. Sono lì, da soli, nel salotto, lui le tiene le mani, lei le tiene le mani e non si baciano. Adesso, questo probabilmente, se uno prende Normal People di Sally Rooney sta dicendo, vabbè, Sally Rooney sicuramente ha letto l'età dell'innocenza, probabilmente Sally Rooney avrà letto l'età dell'innocenza, però non so se avete visto anche la serie di Normal People. Ecco, la serie di Normal People riesce a rendere in maniera abbastanza efficace, o forse totalmente efficace, o definitivamente efficace, come direbbero in matematica, cioè da un certo punto in poi, il fatto che questi due esseri umani, molto giovani, in totale possesso del proprio corpo e dei propri gesti, si desiderano ma non sempre si toccano. Certe volte vorresti spaccare tutto, dici, ma perché non ve ne scappate, non fuggite insieme, non state insieme, perché almeno voi non riuscite a vivere i quei benedetti amori liceali che nessuno di noi si è vissuto? Ok, comunque io non mi sono vissuta. Cioè, io sto lì e ho pensato, ma perché non ho trombato una disperata negli ultimi tre anni del liceo? Quando in fondo quello che succedeva era una cosa molto semplice, che non c'erano conseguenze, quasi nessuna conseguenza c'era in quei gesti lì. Ecco, il mondo dei gesti trattenuti di Sally Rooney, che appartiene più alla vostra generazione che alla mia, o in parte a vostra generazione, sono gli stessi di Elena Olenska e Newland Archer. Adesso la cosa interessante è, il mondo naturale di Elena Olenska e di Newland Archer è esattamente come, non so se avete visto questo cartonimato che è della mia generazione, che si chiama Lady Oscar. Adesso, nella grande, diciamo, disamina di come uno ha capito che era omosessuale, ovviamente Lady Oscar è un pilastro. Tu pensi, io sono quella che sto lì e guido il cavallo, guido la presa della Bastiglia, Maria Antonietta e tutte le dame sono innamorate di me e quindi Lady Oscar è il mio faro omosessuale. Non c'entra niente l'omosessualità con Lady Oscar. Lady Oscar dice una cosa molto precisa che è la stessa che dice Edith Wharton nell'età dell'innocenza. Andare contro natura, nei mondi in cui le nature sono culturalmente strutturate, come il 700 francese o come la Gilded Age americana o come la nostra, andare contro natura significa andare contro le regole della tribù. Non c'è altro, non è una questione che riguarda l'interno o i sentimenti, è una cosa che riguarda il rapporto con gli altri ed è abbastanza angosciante. Però, ripeto, Sally Rooney e Normal People e l'età dell'innocenza riescono a dare questa cosa qui, la misura del gesto trattenuto e la misura che andare contro natura è in qualche modo, anche in Sally Rooney, rompere una differenza di classe sociale. Cioè, ci stanno dicendo una cosa antipaticissima per la quale stiamo combattendo dal 68 in poi, cioè che l'unica differenza vera tra le persone è una differenza di classe sociale, è una cosa antipaticissima. Però se non assumiamo come vera questa cosa, è perché l'assumiamo come vera? Perché i saggi te le spiegano le cose, ma i romanzi te le fanno capire. Esattamente questo. Allora, se noi non cerchiamo di assumere il fatto che la differenza tra le persone è una differenza di classe sociale e quindi quello che dovrebbe fare la democrazia, dovremmo fare tutti, dovrebbe fare la letteratura, è cercare di raccontare storie dove è possibile rompere questa differenza, non abbiamo fatto nulla. Questo devono fare i romanzi, raccontare storie dove queste vite sono possibili e se non possibili dove queste vite sono potenziali. Questo fa la letteratura, crea spazi di rappresentazione di sé anche oltre quello che uno vede camminando per la strada. Questo fa la letteratura o non fa nulla? Esattamente come la terra di mezzo. se Frodo Baggins porta l'anello perché Gandalf sa che le sue intenzioni sono intenzioni per il bene, avere un bene intenzionale è esattamente come fare il male, fare il bene per un'intenzione è esattamente come compiere il male, perciò prende Frodo Baggins, perché Frodo Baggins non ha intenzioni di fare il bene, Frodo Baggins ha una funzione, Gandalf no, ha un'intenzione. Tra le funzioni e le intenzioni la letteratura dice sfonda sulle funzioni, sfonda sulle azioni, racconta, questo dice la letteratura, se racconti e vedi come evolvono le cose non ha un'intenzione, non è un teorema, hai un racconto, meglio racconti. Dopo sto pippone torniamo a questa cosa. allora, non ho l'estatica della purezza ma forse perché non sono mai stata aristocratica e comunque non lo sono nata. Ripeto, Ellen gli crede, sbaglia rapporto causale, tutto apposto. L'affidabilità qui nel romanzo come talvolta nella vita è una delle forme più subdole di convenzionalità perché come ogni convenzionalità che si rispetti include gli altri. Ma in questo caso non altri che guardano o giudicano ma altri che si amano. L'affidabilità è un'altruistica forma di convenzionalità. Si è convenzionale insomma ma non bisogna sentirsi in colpa perché si è buoni, si pensa al benessere altrui. Esempio facilissimo, che per esempio appunto sul rapporto tra biografia e lettore c'avete presente quelli che arrivano sempre puntuali e quegli altri che arrivano sempre in ritardo? E altri che possono arrivare in ritardo perché sanno che tu arrivi puntuale? E arrivare puntuale alla fine diventa una forma di convenzionalità? Questo è pericoloso, essere affidabili, ti chiedono una cosa, tu rispondi di sì e poi la fai e sei convenzionale se tutto il mondo fa il contrario. Quindi la convenzionalità è davvero, l'affidabilità è davvero la forma altruistica di affidabilità da cui diffidare, da cui cercare di restare sulla soglia, sul limine, che è l'altro compito di uno scrittore. La scrittura è un'attività liminale, si sta su una soglia, tra due mondi, quello più facile e più evidente sono i vivi e i morti. Stai lì in mezzo, utilizzi parole che sono state dette da gente che è morta 600 anni fa, con delle variazioni ovviamente linguistiche o soprattutto le variazioni statistiche, e utilizzi parole che saranno ancora dette. Quindi tra i vivi e i morti, tra il bene e il male, tra il giusto e lo sbagliato, tra il giorno e la notte, per tornare a vampiri, la scrittura sta esattamente sulla soglia e la scrittura sta altrettanto sulla soglia dell'affidabilità che può o non può diventare convenzionalità. Tuttavia, fino a quando Ellen non si sente obbligata da se stessa e dall'amore per Newland, Ellen si ribella alle regole, regolette miserabili della società new yorkese. Non cede subito alla purezza. Analizziamo sempre attraverso la casa. Mr. Beaufort mi ha portato a vedere delle case, visto che molto probabilmente non potrò continuare a stare qui. Non sono mai stata in una città dove è tanto inopportuno abitare, in des quartiers excentriques. Cosa importa dove si abita? Mi dicono che questa strada è irrispettabile, non è alla moda. Alla moda. Ve ne importa così tanto a tutti voi? Perché non crearsi la propria moda? Ma forse ho vissuto con troppa indipendenza. Comunque voglio fare quello che fate tutti, dice Onesca. Voglio essere amata e protetta. Voglio fare quello che fate tutti. Voglio essere amata e protetta. Convenzionalità? Affidabilità? Appartenenza alla tribù? Non appartenenza alla tribù? Parole che definiscono le cose? Parole che le rompono. L'adeguamento alla disciplina di una piccola società era diventato per lui, sa di se stesso Newland Archer, era diventato per lui quasi come una seconda natura. Nature culturali. O come osserva Ortega Higasset qualche anno prima, la storia è per l'uomo ciò che la natura è per l'animale. Tuttavia, essere innamorata di Olensca e identificarmi in Newland Archer è stato per me un unico gesto. Avrei potuto essere chiunque, ripeto, tutti nel romanzo sono innamorati di Olensca, ma io volevo essere lui, l'unico di cui lei è innamorata. Avrei potuto essere Beaufort o la stessa nonna Mingott. Io però non solo volevo essere innamorata di Olensca, io volevo essere ricambiata. I libri, dice spesso Marino Sinibaldi, sono gli unici a consentire l'immedesimazione. I film commuovono, ma l'immedesimazione è qualcosa che arriva con i libri e attraverso i libri. Ecco, io penso addirittura che i libri consentano il fraintendimento dell'immedesimazione. Da questo punto di vista, la letteratura è più vicina alla scienza che alla metafisica, così come Popper le ha divise. La letteratura può essere fraintesa. Offre esperienze falsificabili. Sto azzardando il passaggio tra falsificabilità e fraintendimento. Tra falsificabilità della cosa e falsificabilità dell'esperienza della cosa. Ma a questo punto della storia umana c'è differenza tra falsificabilità della cosa e falsificabilità dell'esperienza della cosa? E tra l'amore e avere in comune una tentazione. C'è differenza? Questo mi è capitato con Newland Archer. Mi sono immedesimata nel personaggio sbagliato e per molti anni ho continuato a cercare Olenska. Donne che mi dicevano di andare per il mio bene altrove. Anche se il bene era il loro e si chiamava tranquillità. Una storia noiosa, in fondo, e convenzionale. Il punto è in effetti, forse, che tutti i personaggi sono convenzionali nell'età dell'innocenza. L'unica che non lo è, è in fondo quella che lo sembra di più. E che parlando del romanzo, dopo la prima lettura, non avrei mai nominato. L'unico personaggio non convenzionale dell'età dell'innocenza è May Welland. Non avendo più tredici anni, purtroppo, tuttavia, posso capire perché e come anche la tranquillità sia una forma d'amore. E quanto, tra la coppia e il mondo, tra un amore e tutto il resto dei sentimenti, compresa la stanchezza che arriva comunque, si possa, forse si debba, scegliere il mondo, scegliere il resto dei sentimenti. Il mondo con la sua confusione, gli altri con la loro presenza, possono essere la tranquillità. Non capivo a tredici anni che la tranquillità vuol dire semplicemente essere costretto a chiederti, non essere costretto a chiederti ogni giorno chi sei. Cosa hai fatto? Perché sei in un modo e non in un altro. La tranquillità è che domande del genere non siano quotidiane. Non l'ho capito neanche a trent'anni, quando l'ennesima Olenska mi ha detto «Pensa, siamo a quel punto felice delle coppie dopo che la passione è trascorsa. Pensa, non ci toccherà quella disperazione». Ecco, io a tredici anni e meno, ma comunque anche a trenta, pensavo che la tranquillità fosse il contrario dell'amore e che la tranquillità fosse May Welland. May è l'unica che riesce a far coincidere l'oggetto del proprio desiderio con la forma sociale che a quel desiderio pertiene. Vuole Newland e lo sposa. A un certo punto pare, anche, che supponga che Newland sia l'amante di sua cugina Elena Olenska, ma non dà in escandescenze. Dichiara semplicemente alla cugina di essere incinta, anche se non è vero. Scaccia via il futuro potenziale con il presente immaginato, esattamente come aveva fatto Olenska, ma sapendo bene, al contrario di May, quanto pesa il tempo. Dunque, May Welland desidera tanto Newland da sopportare anche il suo supposto tradimento. Ci sono due ipotesi a questo punto. Cioè, per me ce ne sono due. La prima consiste nel considerare May come il prodotto perfettamente riuscito di un intero sistema di educazione e forma. L'epigono perfetto è meglio riuscito della Gilded Age americana. Oppure, May, come i monaci, ha introiettato la regola. E dunque è libera. In questa lettura dell'età dell'innocenza dei miei quarant'anni, vorrei che May Welland fosse libera. Ciò che governa la società new yorkese, che si muove nelle pagine di Edith Wharton, non è con buona probabilità anche la nostra. È il terrore del disordine. Un tradimento nascosto può essere tollerato, ma un tradimento osteso è intollerabile. Succede due volte nel romanzo, e in entrambi si cerca di riparare alla separazione tra moglie e marito. Si cerca, ma siamo alla fine dell'Ottocento, di evitare l'onta indelebile del divorzio. Il caso più evidente è ancora Olenska. Tutti vogliono che torni col suo conte polacco, o comunque continuano a chiamarla col nome del marito dal quale è fuggita e dal quale lei vorrebbe separarsi legalmente. La seconda riguarda Regina Beaufort, che, annichilita dal collasso economico del marito Julius, va da Mrs. Manson Mingott a chiedere aiuto, ma la vecchia, implacabile, risponde ti chiamavi Beaufort quando lui ti copriva di gioielli e Beaufort resterai adesso, che ti ha coperta di vergogna. Il matrimonio è qualcosa che si può eludere, ma non si può rompere, nella buona e nella cattiva sorte, finché morte non vi separi. Identificarsi in Newland Archer, ora che ho capito l'errore, mi ha portato non solo a cercare Olenska, ma ad assumere altri comportamenti. Sono stata via via gelosa di persone che mi piacevano, ma con le quali non avevo nessun legame fisico. Ero anche troppo giovane, specialmente la prima volta, frequentavo la seconda media, per capire quanto i legami sentimentali o fisici, i legami sentimentali, possano essere anche senza corpo, e se non tutti i legami sentimentali, almeno i miei. Non sapevo, ma sentivo e agivo come se la gelosia fosse un sentimento che prescinde da qualsiasi dato di realtà. Ora sono tornata, e spero sia l'unica cosa che mi è rimasta di Newland Archer, ad accettare di essere incomprensibilmente gelosa. Dai venti ai quarant'anni volevo, pretendevo di essere razionalmente gelosa, che poi significa che volevo che la mia gelosia fosse razionale. Ecco, l'unica cosa savia che mi ha lasciato Newland Archer in mezzo a una barca di fraintendimenti è che la gelosia è come ex falso quadlibet, viene da un falso assunto, ma talvolta ineludibile, che è il senso di possesso, che come direbbe Battiato, fu pre-alessandrino. E può andare ovunque il senso di possesso. Ho disprezzato Newland come talvolta ho disprezzato me, poi alla fine ho accettato sia me che lui. L'errore di identificazione in Newland prende tuttavia probabilmente l'abbrivo da un altro errore di identificazione. Newland è il rampollo di una ricca ed elegante famiglia new yorkese. Io pensavo di essere cresciuta in una famiglia ricca. Piano piano ho scoperto che in effetti non ci mancava niente, ma non eravamo ricchi. Mi piacerebbe poter fare una generalizzazione, dire che funziona sempre così, che cioè la percezione della ricchezza dipende dal contesto. Ma non so se questo è il punto di vista di una persona che ricca non l'ho mai stata e dunque ragiona per comparativi comparativi e non per assoluti. Teresa Ciabatti, quando mi laventavo di essere di Scauri e di essere cresciuta in una famiglia di fresca borghesia, i miei genitori sono i primi laureati delle loro rispettive famiglie, mi ha detto ma stai zitta che sei cresciuta negli agnelli di Scauri. O negli Spicer dunque, o negli Archer, o nei Menso Mingot, o addirittura nei Van der Loijden, in tutte le famiglie della Quinta Strada dell'Età dell'Innocenza. Ecco, in base a questa interpretazione mitomane di Teresa Ciabatti e grazie a questa recente lettura dell'Età dell'Innocenza, so due cose conseguenti. Che non ho torto a dire di aver sbagliato identificarmi con Julian Darcher, ma che ne avevo tutte le ragioni. Teresa ha fatto ciò che uno scrittore fa quando è tale e che io spero di riuscire a fare, fornire una storia in cui un comportamento, un sentimento, fuori da qualsiasi giudizio, sia possibile. Come Nuland Darcher, tuttavia, l'aspetto peggiore del fare il proprio dovere era che sembrava rendere incapaci di fare qualsiasi altra cosa. L'aspetto peggiore, ripeto, del fare il proprio dovere era che sembrava rendere incapaci di fare qualsiasi altra cosa. La divisione netta tra giusto e sbagliato, onesto e disonesto, rispettabile, e il suo opposto non aveva lasciato spazio per l'imprevisto. Quello che non pensavo di avere assunto erano invece i modi di Elena Lenska, più subdoli, meno riconoscibili, più femminili, in fondo. Non potendola avere, forse a un certo punto ho pensato di doverlo essere. Da chi altrimenti avrei imparato a sorridere con lo stesso intento con cui un uomo sguaina la spada? Da chi ho imparato ad aggirare e rendere indistinguibili le barriere economiche se non da Elena Lenska? Mrs. Welland osserva, ho sempre pensato che le persone come la contessa Olenska che hanno vissuto nella società aristocratica dovrebbero aiutarci a preservare le nostre distinzioni sociali invece di ignorarle. Ci sono poi altre cose meno vanitose, autoeloggetive da confessare e riguardano il coraggio. Solo il coraggio rende eleganti, null'altro. Non vestiti, non monili, non la postura eretta, solo il coraggio. Ed Ellen non ha coraggio. O forse lo ha messo tutto per scappare dal marito, per tornare in America. Forse lo perde quando capisce che nella società in cui è tornata il coraggio porta disordine e dunque ne perde la capacità come si perde la capacità di un muscolo o di un diritto quando non si esercita. Ecco, di Elena Lenska mi ritrovo ancora talvolta quello scambiare la mancanza di coraggio per quiete. La sorpresa, scrive Edith Wharton, sembrava la meno abituale delle sue emozioni. Ad essere May Welland non sono ancora arrivata, ma sarà l'esercizio dei prossimi anni. Ammettere che l'amore è un sentimento che ha a che fare con l'insieme del mondo in tutte le sue rappresentazioni e negazioni, in cui si vive un giorno dopo l'altro e che talvolta ha a che fare con la rinuncia. E tutto questo significa che l'amore è essenzialmente possesso, padronalmente si concede a quelli che amiamo di andarsene e di ritornare. È complicato essere May Welland, nessuna verità ma tanta coerenza, molto complicato e in fondo molto matematico, nessuna verità ma tanta coerenza. Avarie. Archer aveva cercato di persuadere May a passare l'estate su un'isola sperduta sulla costa del Maine dall'appropriato nome di Mount Desert dove pochi turisti di Boston o Philadelphia campeggiavano in cottage primitivi e da dove arrivavano racconti di paesaggi incantati. Nel 1991 avevo terminato di leggere quella che sapevo essere e in effetti era l'opera completa di Jursenar in italiano. Mi mancava il teatro, mi sarebbe stato regalato nell'agosto 1996 da Franca Farnioli, buonanima, una donna con cui ho studiato per lunghi pomeriggi nel corso di tanti anni e che è morta qualche settimana fa. Lo stesso anno, il 1991, era stata pubblicata da Einaudi Marguerite Jursenar L'invenzione di una vita, la biografia che aveva scritto Joissane Savignon, giornalista di Le Monde e che in Italia aveva pubblicato Einaudi, l'ho già detto. Nel libro di Savignon si descriveva la casa di Marguerite Jursenar e Grace Freak proprio a Mondesert Island. Mi chiedevo ossessivamente se Newland fosse riuscito a convincere almeno per un'estate May Welland ad andare in vacanza lì e se all'inizio degli anni 40 del Novecento avesse incontrato la strana signora francese e la sua ancora più strana compagna. Avrebbe potuto succedere negli anni 50 del Novecento, mentre Olenska era già tornata a Parigi e se Jursenar tornata a Parigi anche lei dopo 12 anni d'America avesse incontrato Elena Olenska si sarebbe innamorata? Credo con Virginia Woolf che gli spiriti lasciati soli facciano esattamente quello che fanno gli esseri umani lasciati nudi quando la loro fisiologia glielo permette. Tendano a riprodursi. Alla fine degli anni Ottanta dell'Ottocento Villiers de Lilladam scrive un romanzo intitolato Eva Futura in cui un giovanotto di belle speranze e discreta fortuna economica decide di togliersi la vita perché si è innamorato di una donna molto bella ma molto stupida e questo gli è insopportabile. Thomas Edison scienziato che il giovane si chiama Lord Ewald ha finanziato quando nessuno lo avrebbe fatto gli dice di aspettare a togliersi la vita perché ha una soluzione un robot un andreide scrive Villiers de Lilladam che avrà la stessa forma di Alicia Clary la donna di cui Lord Ewald è innamorato ma sarà assai più intelligente perché imparerà tutto da lui non desiderava che la futura scrive Edith Wharton non desiderava che la futura Mrs. Newland Archer fosse un'ingenua la immaginava piuttosto sviluppare grazie alla sua illuminata compagnia un tatto sociale e una prontezza di spirito che le permettessero di muoversi con sicurezza nel gruppo delle più eleganti signore alla moda che cosa aggiungere ah sì un'altra notazione di Archer non aveva nessun senso cercare di emancipare una moglie priva della benché minima consapevolezza di non essere libera e ancora aveva da tempo rinunciato a districare la vera identità della moglie dalla forma in cui la tradizione e l'educazione l'avevano modellata Geremia 2.25 guarda che il tuo piede non si scalzi e che la tua gola non si inaridisca ma tu hai detto non c'è rimedio no io amo gli stranieri e andrò dietro a loro che quanti in Tarantino per Ezechiele 25.17 in Kilbilla abbia preso spunto dall'età dell'innocenza in melodramma d'altronde il libro si apre e si chiude con l'opera e non con la musica sinfonica lui e lei Newland più Ellen per noi ma noi in questo senso non esiste noi siamo vicini solo se restiamo lontani allora possiamo essere noi stessi normal people altrimenti siamo soltanto Newland Archer il marito della cugina di Elena Olenska ed Elena Olenska la cugina della moglie di Newland Archer che cercano la felicità alle spalle di chi si fida di loro all'improvviso sentì qualcosa di rigido e freddo sulle ciglia e capì che stava piangendo e che il vento gli aveva gelato le lacrime le abitudini quotidiane avevano il gusto della cenere e c'erano momenti in cui si sentiva sepolto vivo sotto il suo futuro la vera solitudine è quella di queste persone gentili che agli altri chiedono solo di fingere lo dico sempre a Ellen guardati dalla monotonia che è la madre dei peccati mortali Ellen inoltre nel romanzo è come già morta sentite le descrizioni uno sapeva che se avesse portato con sé l'immagine del lembo di terra su cui lei aveva camminato e del modo in cui il cielo e il sole lo circoscrivevano il resto del mondo gli sarebbe sembrato meno vuoto due Ellen Olenska non era mai più stata per lui una presenza viva pensò a una storia che aveva letto di piccoli contadini in Toscana che bruciavano un fascio di canne in una grotta sul bordo di una strada rivelando antiche immagini silenziose di una tomba etrusca tre per me è più vero così che se fossi salito Archer al figlio sotto casa di madame Olenska a Parigi cosa succede? non la vuole vedere invecchiata? preferisce il ricordo alla realtà perché è l'unica cosa che ha avuto di Ellen Olenska? era facilissimo allora collocare ciascuno al suo posto ora non si può più dire e io preferisco non provarci dice Mrs. Archer soltanto la vecchia Katrin Mingott la ghiattona dell'inizio con la sua assenza di pregiudizi morali e la sua indifferenza da parvenu alle distinzioni più sottili Archer si chiese se il viso di May era destinato a irrigidirsi nella stessa immagine di matura inscalfibile innocenza ah no lui non voleva che May avesse quel tipo di innocenza che sigilla la mente all'immaginazione e il cuore all'esperienza Susan Sontag scriverà nei diari intorno agli anni sessanta del novecento osi e innocenti osi e saggi e siccome voleva scrivere indovinate cosa ha scelto la saggezza era stufo di vivere in una perpetua tiepida luna di miele senza la temperatura della passione ma con tutte le sue esigenze se May avesse espresso le proprie lamentele sospettava ne avesse molte lui le avrebbe potuto spazzarle via con una risata ma era esercitata a celare le ferite immaginarie dietro un sorriso spartano una grigia briciola d'uomo al confronto dell'indomito magnifico personaggio che aveva sognato di essere come Newland Archer siamo una grigia briciola di persone al confronto degli indomiti magnifici personaggi che abbiamo sognato di essere grazie se ci sono delle domande io sono qui grazie intanto buonasera e volevo ci tenevo a dirle che non avrei mai pensato di prendere in mano un libro con la parola matematica nel titolo ma sono veramente contenta di averlo fatto quindi la ringrazio per aver scritto molte grazie e la ringrazio anche per il tono per con cui lei ha trattato certi argomenti nel libro che non è scontato dato insomma anche l'importanza di certe questioni che lei ha trattato collegandomi alla riflessione sulla rappresentazione nella narrativa che lei ha fatto quindi raccontare la letteratura creando spazi per la rappresentazione del sé che è anche un po' il motivo che mi spinge a essere qui oggi che mi ha portato qui oggi volevo chiederle se lei ha qualche consiglio da dare a persone come me ma penso che molti altri siano qui anche per questo motivo qualche consiglio su come entrare in questa rappresentazione nel media italiano in un mondo in cui o comunque in un'atmosfera dove la questione per esempio omotransfobica regna impunita o testate giornalistiche parlano di una donna piuttosto che metterci in nome eccetera se lei ha qualche consiglio visto la sua presenza in questo mondo letterario o comunque la sua influenza riguardante queste questioni e la rappresentazione appunto in questo in questo media grazie io ho smesso di insegnare matematica all'università quando ho smesso di fare ricerca per un motivo molto semplice sicuramente un motivo di vanità io volevo essere esattamente come volevo essere Newland Archer che è l'unico personaggio a essere ricambiato da Eleon Lenska io volevo essere la più brava perché non potevo essere la più brava perché per diventare bravi ci vuole molto tempo e perché per diventare bravi bisogna avere il tempo di conoscere molte variazioni della stessa cosa per essere bravi bisogna essere molto preparati io vado in questo mondo e ci vado quando so che posso essere molto preparata alcune volte posso sbagliare valutazione su di me però ho fatto studi e ho letto abbastanza per saper valutare l'approssimazione delle cose che so quando le so c'è sempre un'approssimazione c'è sempre un errore ma l'importanza è saper valutare quanto quell'errore è grande ed è e quanto si può diciamo quanto è giusto quanto è ragionevole che ci sia quell'errore quindi l'unica risposta che posso darle è studi molto Janet Winterson scrive credo nel suo primo libro che non ci sono solo le arance che esce a metà degli anni 90 in Italia tradotto per Mondadori scrive questa cosa che dice a girl motto is to be prepared ecco io penso che esattamente la linea guida di una donna sia essere preparati essere molto più preparati Michela Murgia dice una cosa molto divertente dice purtroppo alle donne è richiesto di fare quello che fa Fred Dastair soltanto avendo i tacchi e camminando all'indietro ecco può darsi che sia vero però non importa io non ho mai visto diciamo nessuno morto per un eccesso di esercizi forse sfinito sì ma morto per un eccesso di precisione no poi a un certo punto quando si cresce succede questo che lei capisce che talvolta la prima approssimazione che ha di una cosa è la migliore e anche se non la soddisfa deve andare lo stesso però questo si guadagna con gli anni si guadagna con gli anni esattamente come nell'età dell'innocenza quando diciamo ci si può consentire di perdere in esattezza avendo guadagnato in relazione questo è una cosa che succede ho capito molto tardi di vivere in un mondo misogino l'ho capito molto tardi perché i miei misogino forse è un termine eccessivo che comunque non favoriva l'inserimento delle donne l'ho capito tardi perché ho fatto studi dove si era molto forti sulle categorie ma poco forti sui generi ricordo sempre l'esame di istituzione di analisi superiore un'ora e quaranta con il bravissimo professor Vittorio Cotizelati che alla fine di quest'ora e quaranta mentre mi stava dando un trentellode e mi dice mi dia il libretto io glielo do come si chiama io dico Chiara Valerio e lui mi dice Valerio il nome e il cognome non stava dando una valutazione estetica stava pensando a un'altra cosa a una specie di cervello che non era né maschio né femmina ho capito negli anni che il cervello non deve essere né maschio né femmina il cervello deve essere sia maschio che femmina dove questo che significa che le donne si devono riappropriare di quell'intelligenza relazionale che ci è stata negata per 1500 anni per questioni diciamo diverse e riappropriarci di quell'intelligenza nostra che è fatta dagli altri cioè noi abbiamo un'intelligenza dentro di noi un cervello dentro di noi e abbiamo un cervello fuori di noi ecco quel cervello fuori di noi le donne hanno cominciato a esercitarlo da 200 anni a questa parte quindi ci manca un pezzetto ma spero confido nella velocità e nella rete per cui ci potremo riappropriare e utilizzare perfettamente quel cervello relazionale che è stato appannaggio maschile per diciamo per millenni di storia umana andate a leggere però l'età dell'innocenza per favore vero è super importante cioè se poi va bene anche vedere il film è un eccellente adattamento però leggere l'età dell'innocenza e pensare che sia un mondo chiuso e invece ritrovarsi con un modello semplificato della realtà in cui noi viviamo è molto interessante un'altra domanda buonasera volevo spostarmi su un'altra questione volevo chiederle lei che ha una preparazione sono qui ok lei che ha comunque una preparazione matematica che è comunque dentro l'ambiente letterario ha scritto libri eccetera eccetera volevo chiederle c'è anche sempre stato un po' nell'area questa cosa questa figura del letterato che va male in matematica non apre il libro di matematica e cose di questo tipo e quindi volevo chiederle partendo dal presupposto che secondo me la matematica come ogni cosa nella vita come ogni disciplina di studio come ogni esperienza arricchisce diversamente volevo chiederle come i suoi studi matematici hanno arricchito la sua la sua visione della letteratura anche se sembrano due momenti completamente diversi ma insomma ero curiosa di sapere cosa cosa pensasse lei ecco allora è una cosa molto rara comunque scusi in realtà non così rara se guarda la letteratura italiana non è una cosa rara primo lei aveva studiato chimica Carlo Emilio Gadda era ingegnere addio santo perché non mi ricordo mai come si chiama quello che comincia con la F vabbè comunque ce ne sono vabbè sono una povera disperata Paolo Giordano è fisico Mario Desiadi è giurista Federica Manzoni laureata in filosofia cioè l'idea che il letterato pertenga e appartenga alle lettere è una è un'idea diciamo abbastanza manichea soltanto che la logica binaria cioè il nero bianco si no letterato matematico funziona per le macchine funziona molto meno per gli esseri umani quindi questa diciamo è la prima è la prima cosa quindi è un'eccessiva semplificazione di quello che è la realtà soprattutto negando la memoria del passato in qualche modo impedisce o inibisce l'immaginazione del futuro per quanto riguarda ho sputato nella mia borsa non vi preoccupate per quanto riguarda la mia esperienza personale e invece è un'altra io sono cresciuta con un papà fisico e una mamma segretaria comunale questo significa che erano due persone che coltivavano e vivevano in maniera anche tecnica le loro rispettive discipline mio padre attraverso il linguaggio formale con cui doveva dire le cose mia madre attraverso l'apparato amministrativo attraverso il quale doveva decidere o rendere possibili le cose quindi io sono cresciuta in una famiglia dove non c'era distinzione tra le competenze tecniche e le competenze immaginative quindi quando c'è stato come c'è stato come c'è sempre l'idea che ti dice ma tu sei più portato per il latino e l'italiano e il greco o sei più portato per la matematica sei più portato per l'immaginazione o più portato per lo studio sei più portato per una disciplina umanistica o sei più portato per una disciplina scientifica io semplicemente non vedevo la distinzione perché per questioni personali non avevo visto la distinzione e adesso qual è il grande portato di questa possibilità che ho avuto diciamo che sono stata in grado di cogliere anzi che ho colto senza aver saputo che la stavo cogliendo è che se uno comincia da bambino a maneggiare concetti astratti esattamente come maneggia i pomodori tutti noi siamo in grado di capire la salsa di pomodoro il pomodoro al riso la dadolata di pomodori i pomodori confit e anche i pomodori al gratin noi sappiamo che vedendo quella cosa che cos'è un pomodoro ecco i concetti astratti sono esattamente quella roba lì tu ti li puoi trovare sotto forma molto differente e non devi avere paura di riconoscere similitudini in cose che sembrano molto distanti che spesso hanno un sapore molto distante ecco avere confidenza con i concetti è il contrario di avere la cautela la cautela è il più grande errore culturale che si può fare quando si maneggia i test si maneggiano i testi io l'ho capito quando ho cominciato a lavorare alla radio facendo l'adattamento dei romanzi e quando all'inizio avevo paura di mettere le mani su cime tempestose dicendo come fai a tagliare cime tempestose ho pensato che si poteva tagliare cime tempestose proprio perché era cime tempestose e forse i miei libri non si potevano tagliare ma i libri ma cime tempestose si poteva tagliare forse non si può tagliare il mio racconto ma Dickens si può tagliare il punto è che quando le cose i concetti astratti che siano matematico che siano letteratura hanno la consistenza della realtà con la consistenza della realtà tu ci puoi fare la passata e ci puoi fare il pomodoro confì quindi tutto l'esercizio di una vita ed è un esercizio sia umanistico e scientifico ma soprattutto scientifico è riconoscere le fatti specie in cose che sembrano molto distanti è difficilissimo è difficilissimo ma è l'unico esercizio che vale la pena di fare vedere le semiglianze che è quella cosa che poi in realtà dice molto bene Matrix l'idea che ci sia la matrice dietro le cose non significa che c'è l'architetto che sta lì a programmare su uno schermo Fortran nero con le lettere verdi che cadono sopra o come dice Van Der Mer in Annihilation come si chiama il primo libro della trilogia di Van Der Mer che sta scendendo sembra che sale in una torre ma in realtà sta scendendo nelle profondità ctonie ci sono queste lettere che compongono il senso come se fossero dei piccoli elementi botanici ecco quello che ci sta dietro e quello che sta dietro sia la letteratura che la matematica è riconoscere i comportamenti le fatti specie in storie che sembrano molto distanti motivo per cui la matematica e la letteratura e tutte le discipline studiate in maniera verticale consentono di essere mediatori culturali perché tu riesci a riconoscere le semiglianze dietro le differenze è più facile è più divertente è più avvenente parlare delle differenze per l'eccezionalità per essere fuori dal giudizio esattamente come Nuland Archer e Dela Nolenska ma quello che è importante è riconoscere le semiglianze e dopo aver riconosciuto le semiglianze dividere non voglio arrivare alla morfologia della fiaba di Prop dove di storie di figure della fiaba ce ne sono solamente cinque però non credo siano tante di più e questa è una cosa sia matematica sia profondamente letteraria se non ci sono altre domande ringraziamo Chiara Valerio e noi ci vediamo alle quattro per il prossimo incontro grazie a voi alle sei scusatemi buoni studi buoni studi e buone scritture grazie Lavazza grazie Olden grazie Federica Manzion grazie a tutti